Come sta andando Ecomondo? Io vorrei ringraziare tutta la fiera, specialmente per la Slovenia e per il Merser Consulting, che è stato invitato a venire qua. Cosa li interessa e le chiedo anche se ha già allacciato delle relazioni commerciali e di business. Il signore dice che è stato vuto piacere di venire anche l'anno scorso e ha fatto una paralela. Che quest'anno le sembra che è un po' in stagnazione, che è un po' diverso rispetto all'anno scorso. Allora, siccome siamo di pazzi poco sviluppati. potrebbe essere molto interessante per il futuro e poi, sinceramente, soprattutto, siccome, rispetto all'anno scorso, qual è il discorso di prima, lo stesso quest'anno è andato molto bene. Scrizione 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 Scrizione